Polvasaur si è offeso perché è stato tagliato brutalmente dall'inquadratura Allora raga, questo sarà un video spacchettamento Il primo video spacchettamento di tutto questo canale immenso con tante cose dentro Questo è il primo di una lunghissima serie di spacchettamenti Se vi piacciono, se non vi piacciono non li faccio Cioè a me li spacchetto da sua I pacchetti, che in realtà ho già spacchettato Però visto che mi avete detto fai lo spacchettamento Ho detto vabbè facciamo lo spacchettamento Sta registrando, sì Sentite un ticchettino di sottofondo Sereanza che sta scrivendo il suo video È mezzanotte e qui si girano cose Neh I cinesi litigano, non capisco perché Ah potrei accendere questa tipo, magari Cosa dite? La accendiamo Ok sono stata illuminata dalla luce del signore E adesso abbiamo questo pacchettone gigante di cose da farvi vedere che mi avete dato quando ho fatto l'evento all'Oreo Center E voi mi avete dato tanti bei regalini Ora ve li faccio vedere Ci sono cartelloni più che regalini Però ci sono anche dei regalini Tipo questo Con cui ho dormito l'altra notte perché ho due anni e mezzo Vediamo i cartelloni a caso Qui ho un cartellone bello grande, grandissimo da C'è scritto mi raccomando salutami anche Serena Quindi ciao Oh ciao Da Denise e Lavinia Questo è il cartellone gigante Bellissimo Poi c'è un altro cartellone più piccolo con Serena Ci saluti Serena Sono io la protagonista del tuo video Sì ma Ho due su due Va bellissimo Molto bello Questa frase filo Mi so anche io Eh sì C'è anche la serie Scusate raga ma sono le 23 O le 24 Non lo so più Mezza e mezza Cosa? Mezza e mezza Ah è quasi l'una Perfetto E tra l'altro non vedo niente Quindi se faccio tipo Perché non vedo Mi mancano 6.000 diottrie Vabbè Questo qui è da Angela Ti saluti Ciao Angela Sono molto Cesca Ah questo qui è bellissimo C'è questo affare qui Che è troppo filo L'ho sempre voluto Questo coso qui Non pensavo che ci fossero ancora Non riesco a prenderlo Ma quando dico che non ci vedo Intendo che ho perso ogni percezione Dello spazio Poi ci sono le figurine di Dory Guardate c'è Dory con Nemo Sono i trasferelli Poi c'è ah una calamita di New York Queste cose per fare gli scupidu E un pennarello Sono dei regalini bellissimi C'è un bigliettino Da Sara e Lucia Per Cesca Grazie Sara e Lucia Poi abbiamo Questo qui Che dice così Questo qua Che è anche per Serena Questo qui è veramente Veramente bello Sono io È bellissimo Qua me lo appendo Mi faccio una gigantografia di questo Disegno bellissimo Poi abbiamo Un altro cartellone Un po' più cazzato Questo cartellone Un bellissimo cartellone Questo qua è gigante Ed è bellissimo Ed è rosa Come me C'è anche l'unicornino Qui raga Aiuto mi sta mangiando questo cartellone C'è l'unicornino piccolo Ho l'arcobaleno E la faccina Bellissimo C'è questa farfallina Cristina Mi ricordo di te Cristina Ti tolcherò su Twitter Guardate quanti regalini Che mi ha fatto Questa cosa qui Carina Questa Non l'avevo notata È una F Con scritto Pace amore Unicorni a tutti C'è una collanina Con un unicorno Sono dei marshmallow Che si mangia da tutti Serena Un cd Dove c'è un video Dentro Poi c'è la letterina Ah C'è lo scorcio arcobaleno Vorrei farvi notare Ha fatto questa letterina Bellissima In cui Ha messo delle cosine Poi Mi ha regalato questo qui Che dice che è buonissimo E niente Qua dentro ci sono questi braccialettini qui Questo è per Serena È il tuo questo Oh grazie E questo invece è il mio Perché la F rosa È mia Guarda me lo metto già Poi c'è questo farino piccolino Che non ho capito Che cos'è Chiama Ciupacca No raga Di quelli che stanno in piedi Io faccio così Lui torna in piedi No Poi abbiamo Un bellissimo cartellone Con i brillantini Tutto di serato Molto figo Ah Sta cadendo tutto raga E dentro uno scubidù Questo che non ho capito cos'è E qua c'è una c di cesca Poi Questo qui bellissimo Oddio Di Martina Poi questo qui bellissimo Da Aurora e Alessia Poi invece qui A scuola mi chiamano unicorno Questo è da Elisa Che ho letto Giuro che le ho lette Ah qua ci sono un po' di cose Scritte Sofia che mi ha scritto un sacco di cose bellissime E mi sono commossa Abbiamo un Babbo Natale E un pupazzo di neve gomma Questa è un'altra mini letterina E questo qui Di nuovo tutto colorato Bellissimo Anche per Unicorn Island Da Elida E Imma Spero di aver pronunciato giusto questi nomi Scusate È l'una di notte Bene I regalini sono finiti Andate in pace Niente Sono davvero tanto contenta Che mi avete portato Tutti questi regalini Io non so se Belli meritavo Tutti questi regalini belli Però sono tanto felice Davvero Non me li aspettavo Tutte queste cose bellissime Mi veniva da piangere E niente Spero di incontrarvi presto In un'altra città E fare tante fottine con voi E abbracciarvi tutti E niente Spero di rivedervi presto Nel prossimo video Che non so Quando sarà Ne che video sarà Perché in questo momento Il mio cervello è morto Perché sono È notte Io dovrei dormire Vabbè detto ciò Mi raccomando Seguitemi su tutti i miei social Se vi è C'è tutto questo video bellissimo In cui spacchetto le cose Mettete il pollicino in su E ditemi se ne volete degli altri Quando avrò delle cose da spacchettare Ovviamente E vi voglio tanto 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 Bene Pace Amore E Sweepy A tutti E E Ciao